Però certo dai, ma che cazzo di partita è stata questa? 25 tiri, 0 gol 25 tiri, 0 gol Ma ci rendiamo conto di quello che cazzo che hanno fatto stasera sti qua davvero? Cioè riesci a pareggiare contro la penultima in classifica Cioè, che davvero dal primo minuto all'ultimo li abbiamo presi appallonati in faccia Non si può nemmeno capire e tu ci pareggi 0-0 E tu ci pareggi 0-0, mamma mia Qui proprio hai mancato di personalità ma tanto Cioè non hai avuto la personalità di chiudere una partita del genere che stavi letteralmente dominando Una partita che stavi dominando, cioè proprio ti manca la personalità di chiuderla Ti manca quel pizzico lì di chiudere una partita che era facilissima Che doveva essere anche abbastanza facile da chiudere Perché stai giocando contro la penultima in classifica Vorrei ricordare Vorrei ricordare Comunque un'occasione per andare a più 5 dalle altre 3 che ci stanno là dietro Buttate in eccesso Vabbè, almeno siamo andati perlomeno a più 3 perché Comunque ormai per lo scudetto è il bello che è andato Vabbè, l'importante è qualificarsi in Champions in questa stagione Però voglio dire, cioè Questa è l'ennesima prova che se non vinci partite del genere poi non puoi ambire a grandi risultati Perché nella stagione del scudetto partite del genere riuscivi sempre a spuntarle Anche soltanto 1 a 0 Invece nelle ultime stagioni queste cose qua stanno succedendo molto di meno E i risultati si vedono Vabbè, personalmente non c'ho voglia nemmeno più di stare a parlare Vabbè, c'è rego